In questo periodo è nata questa nuova iniziativa, il PID, che è il punto impresa digitale. Io che rappresento Infocamere, che è la società di informatica dei campi di commercio, quindi braccio operativo dei campi di commercio, sono stati lanciati in questo periodo dei nuovi servizi a favore delle imprese, sempre nel campo di innovazione digitale. Uno è appunto questo, il cassetto digital dell'impresa. Banalmente tutti gli imprenditori con uno smartphone o con tablet, con banale click, possono accedere ai documenti dell'impresa. Quindi avere allo Stato della propria impresa, le visure, il bilancio, le pratiche, anche le pratiche presentate sullo sportevunico delle attività produttive, messi in appunto partito come Comune di Rapovoro in questo periodo, visto che siamo qua. E tutta un'altra serie di iniziative.